Ma probabilmente l'Atalanta aveva una partita in più di noi sulle gambe, poi abbiamo mancato il 3-0, abbiamo preso quel gol di Gonsens evitabile, la partita è un po' cambiata e poi in secondo tempo abbiamo avuto problemi con giocatori che stavano facendo benissimo, insomma Correa, Cataldi e Radu stavano facendo ottime gare, mi hanno chiesto il cambio, avendo giocatori importanti, non eravamo lunghissimi nelle rotazioni, però i ragazzi hanno fatto una grande mezz'ora, il rammarico grande è quello di non aver fatto il 3-0 e di aver preso un gol di Gonsens evitabile del 2-1. Beh, questo è quello che dice la classifica, si allontana, ma abbiamo 11 partite, 33 punti, noi dobbiamo cercare di tornare alla vittoria, sabato sarà una gara difficilissima contro la Fiorentina, però cercheremo di organizzare un'ottima gara. Ma per quanto riguarda Radu e Cataldi sembrano degli affaticamenti leggeri dovuti a sovraccariche, mentre Cataldi gli è rimasta piantata la caviglia, ha avuto una distorsione alla caviglia che sarà da valutare. Quindi dovrai cercare comunque altre soluzioni anche in questo senso, visto che le partite sono così una dietro l'altra. Probabilmente sì, già stasera avevamo cercato qualcosa di diverso, adesso valuteremo gli acciacchi, valuteremo che ci sarà, ma faremo del nostro meglio. Grazie mille. Grazie.